ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video questa mattina siamo di nuovo su un po rodella però oggi faremo il giro del sasso lungo del sasso piatto val du ro ok anche oggi sarà sicuramente un bel giro state sintonizzate e godetevi il video ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.